compagnolo star la pagina oggi stasera scuola scuola perchè puzzi il tracca io ci sto meglio vorrei cambiare con gli scintillanti vuoi mett... no non voglio mettere il tuo schermo mia schermo me se io si gioca il locale adesso no perchè. come come dai dai cosa fare dall'8 giugno ok vieni play play con il termine wifi che non ho fatto che cosa tu puzi sì io devo attivare wifi portazioni portazioni mi sono dovuta un'altra cosa che devo dire nel video aggiornamento ok Ok. Credevi ho router Wi-Fi attivo. Ma come puzza, puzza di cacca, puzza di cacca, arriva nei messaggi, non leggete. Trillam. Chi sei? Non è il tuo numero, sono il tuo miratore segreto. E tu come l'hai capito? Eh? Eh? Ah, dalla foto? Un numero. Dov'a vedere che Minecraft è sauridi che ci sta scritto Insane. Ah, fa un burro. L'ho visto. Ma da dove lo prende quel nome? A Facebook? Ok, anche se sto registrando da ben 5 minuti. Ah, bene! Vabbè, no. Tanti, sicuramente. Devi tagliare. Certo che devi tagliare. Certo che devi tagliare. Cioè, almeno iniziare a registrare così fa. Diminuisco le impostazioni così non lag. DAIYEE! DAIYE MO! MARCO PUZZA DI CACCA PER CHE FALA? Ok. Ma andai a fare i carichi a via, dai! Sì, certo, dai carichi. Vediamo quando siamo a Google Nessu. Mi vedi? Sto qua! Girati! Turn around! Ah, se ne ero per girare, ma... E perché l'hai aumentato allora? Eh? Perché l'hai aumentato la... Io. Non si salva. Devi aumentare ogni volta. Al secondo. Dove l'hai messo tu? A 75%. Più o meno, madame. Mi vedi? Ecco qui. T'ho qua, sto saltando. Allora è meglio, dove? C'è ancora mucca dietro di te. Ti vuole stuprare. Dove? Laggiù, in lontananza. Vabbè, sì, sti cacchi. Ok, tu inizi a prendere la linea e inizi a fare il video aggiornamento. Grazie a tutti. Che mi stessi sto? Sì, è stato inserito che dovevo fare la sorpresina. Salve a tutti ragazzi, sono in 696mcp. Non so se metterò anche il pezzo di prima, pendolino. E benvenuti in questo direggendamento lunghissimo. Siamo qui sulla Pocket Edition. E vi parlerò di tutte le cose, avete già visto qualcuno. Vi parlerò di tutte le cose che arriveranno. Cominciamo. Scendiamo qui sotto. Qua c'è un buco di troppo. Mettiamoci da chiare. Ma, cominciamo. What's happened? Cosa è successo questo mese di giugno? È successo che non abbiamo, non sono, non me la chiedeva a capire vita. La noia, la noia era noiosa. Cioè, è stata una pausa pre-estiva, diciamo. No, una pausa inizio estate. Va bene, comunque adesso è luglio e quindi inizierò a caricare i video con un po'. Serie in corso? Vediamo un po' le serie in corso. Riempiamo qui. Sono un pio perché qua non ho già rimesso la pietra. Vabbè. Allora, Cugini Serie. Troppi Crash. Come avete visto dall'ultimo episodio, sono crashato un bel po' di volte. E noi non ci troviamo mai almeno quattro persone per registrare. Poi, The Power of Time Consiglio 1. The Power of Time 2, scusate. Non ho scritto perché c'è qualcuno, c'è un pirla qua. Dopo vi spiego. Allora, la serie è sospesa fino a quando non ci troviamo per registrare. Registreremo tutti gli episodi fino alla fine della raffa e poi finora la serie. L'altro invece devo mettermi a caricarlo perché comunque ce l'ho già. Questo lo dovrò rompere per entrare, ma a dettagli. Cominciamo. Andiamo avanti. Le serie in arrivo. Anzi no, cominciamo dalle novità, va? Novità. Perché non c'è l'audio attivato, eh? Ok. Allora, microfono nuovo. Su PC ho il microfono nuovo. Ehm... Che io sono un genere. Vieni, capito. Ehm... È unico che farò 9 quindi è meglio. Poi, qualcos'altro che io non ricordo, adesso ricordo. Che, che, che stai a fare? Ehm... Dicevo. Come vedete già dal nome lì. Un'altra cosa buona che vi dovevo dire. Ma dove sei venuto a prendere la pietra? Proprio qua, via la pietra. Vai via, vai via. Beh, ragazzi. Prima la serie che abbiamo iniziato un bel po' di tempo fa è stata in multiplayer, ma come aveva il tablet. Il tablet c'è la volta e non abbiamo potuto registrar più niente. Adesso ecco, ma il telefono nuovo e come vedete lo posso picchiare. Vai via. Dove fare il video aggiornamento. E non so, ma non so dove sei uscita. Dove sei entrata? Eh, non so, ma... Da qua. Dove? Da là. Ah, ok. Da qua. Ciao. Ehm... Questa è la serie in arrivo. Poi... E questo è l'altro qualcosa che non ricordo. L'estate è stato uguale più video, si spera. Quindi, queste sono le novità. Sto facendo notte, Marco muore dentro i zombie. Adesso vediamo le serie in arrivo. Sono troppe, però... Allora, Portal. Ho iniziato la serie... Portal sul PC, naturalmente, la serie inglese. Ehm... Ah, ecco cos'altro vi dovevo dire delle novità. Aspettate, gniepeci. Un'altra novità, che è qualcos'altro che non ricordo, era che... A metà luglio, faccio il compleanno, modestamente. Faccio... 174 anni. Ehm... Che stavo dicendo? Ah... Ehm... Mi... Crimo e Anjay della serie Outcom mi regaleranno... La... Scheda video nuova. Così non laggerò più e potrò registrare anche l'FTB. Quindi... Questa è un'altra novità. Scheda video nuova, così niente lag più. Con tutte le impostazioni al minimo. Anche se Optifine lo metterò lo stesso, perché... Che cattio ha fatto questo? Sta facendo la villa e io mi riesco fuori dalla villa. Ehm... Fai la villa. Fai la villa. Fai la villa. Fai la villa. Allora, dicevo, Portal... Lo volevo iniziare prima questa serie, ma dato che faccio 5 FPS mentre registro, non la posso fare. Naturalmente la serie sarà in inglese, parlerò in inglese con Kurimo e... Sarà molto gniepeci. Dopo l'hardcore, dopo che si finisce l'hardcore, cioè questa qua, grazie a Marco che mi ha aperto il passaggio tra una stanza e l'altra. Dopo l'hardcore, inizierò una serie con un pacchetto che ho fatto io, si chiama Minimodpack. 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 Ah, buono. Naturalmente dopo che Marcus ritornerà al suo paese natale, nativo. Che stonno. Cioè quando tornerà a casa, che possiamo registrare. E Minecraft Poker Edition, sempre con Marcus. Quello registreremo in spiaggia, al posto di avanti un altro, dato che avanti un altro... Cioè, meglio per Minecraft. Quindi, queste saranno le novità. L'aggiornamento è finito, questo mondo. Sì. Questo mondo lo continuiamo noi due, anche se lui farà la casa perché mi è un pirlo. Questo sono le serie in arrivo, le serie che se ne andranno, le serie FAP, le serie VIP. Mi sono fatto tutte queste stanze, così mi ricordavo tutto quello che vi dovevo dire, se no non me lo ricordavo perché non ho capito. Sì, per buono. Sì, FAP. E quindi, per questo video aggiornamento è tutto, sta fizzando la paura. Non so, addirittura. Gigi, giigi, giigi. Ah, non so, di registrare. Sto registrando, sto facendo il rudel, sto facendo il server, quando ne pu? Dove è quel pirlo? Dove sei? Vabbè, comunque per questo video aggiornamento è tutto, questo mondo lo continuiamo senza registrare. Faremo un nuovo mondo quando ce ne attenerà da registrare. E comunque, un spoiler, c'è un altro episodio di... Ho avuto avanti un altro che devo caricare. Ehm... Ho avuto avanti un altro. Poi ho registrato ogni quattro New Games con Marcus, prima che tornasse qui a... al suo paese natale. A Capodanno. Ok, basta. Ciao a tutti. Ciao. A Giama non posso chiudere il gioco, ma cosa sta facendo?